Buongiorno ragazzi belli, sono venuto qui per fare il consueto video mensile e intanto vi volevo ringraziare per tutti i mi piace che avete messo alla pagina facebook, stiamo crescendo e mi fa tanto piacere, per le condivisioni a tutti i video della stupidità ai tempi nostri perché io tra me e me ho pensato, perché non pubblicare un po' di cose anche su facebook come fanno tutti così almeno se la gente mi va a vedere su facebook e magari gli piaccio con video corti poi mi va a cercare su youtube dove ci sono video più lunghi tutti i video sono stati condivisi, persino siamo arrivati a 33 condivisioni, cioè mi fa un piacere incredibile e oggi sono qui per voi per fare le pubblicità assurde nella televisione quando questo video uscirà su youtube io avrò già messo ogni pubblicità su facebook e ora questo è il collab per youtube partirei subito dalla prima pubblicità, guardate un po' mi chiamo Q, Eva Q, perché mi affidano le missioni più difficili? perché agisco rapidamente contro la stitichezza prova Eva Q, la supposta effervescente che risveglia l'intestino con la delicatezza delle sue bollicine Eva Q effervescente, rapida e senza controindicazioni allora, ora, posso capire che siamo nel 2015, ci sono le innovazioni eccetera però insomma ora, dare un nome di persona a una supposta, cioè ma come è possibile? è come se io chiamassi un termometro a un Piero, cioè mamma mi dà un Giampiero, mi devo misurare la febbre come se chiamassi, cioè ho mal di gola, mamma mi dà una Caterina, mi fa mal la gola al posto della Dachipirina che poi Eva Q, ma come Eva Q, semmai Eva in Q, visto che deve entrare in quei posti lì un po' insomma l'avete affidato giù, vabbè, ma guardate questa pubblicità qui Cosa state facendo? Sto verniciando e Giovanna mi aiuta Brava Giovanna, brava Oh ragazzi, ma questo sembra l'intro di un film osè per non dire bene Giù c'è uno che arriva, tra l'altro ci sono due donne in casa sua, dentro casa sua e sembra non le conoscano neanche Arriva a casa, le vede con un pennello in mano e gli chiede Che cosa state facendo? Che cazzo devono fare con un pennello in mano? Un panino o il prosciutto crudo? Cioè ma un po' di mentalità, sveglio, attivo Stiamo verniciando e Giovanna mi aiuta Brava Giovanna, brava Ora io non so voi, ma provate a immaginarvi la stessa scena nella vita vera con al posto delle due ragazze, due uomini, due muratori e lui che rientra, stessa scena Cosa state facendo? Come cosa sto facendo cazzo? Non sentirei male che sto lavorando qua, mi chiamandolo tu, ho chiamato io Nicola per farmi dare una mano Bravo Nicola, bravo Sono Nicola per farmi complimenti, ma sono stato io a chiamarmi perché se non ero per me, io lavoravo solo io da solo come un cane Perché stiamo facendo tutto il giusto lavoro per te, siamo in due domani settimane per complimenti solo a lui, dice me non capisco Cioè, questa scena non è credibile, non è credibile solo perché lì ci sono due ragazze e allora hanno dovuto fare Guardate questa pubblicità qui Mamma, devo fare la pupù Andiamo allora Ma voglio farla da Paolo Non essere sciocco amore, andiamo Io vado a farla da Paolo Il bagno di Paolo ha glet micro spray, è più descritto di uno spray e niente più cattivi odori Io devo riuscire a capire perché tutti vogliono cacare a casa mia No, a parte gli scherzi, questa pubblicità non ha un minimo di senso Ora, un bambino torna a casa e vuol cacare a casa di Paolo Se ti scappa davvero tu la fai dove tu sei Se ti scappa quanto tu la fai stanché in un campo Che discorsi sono? Non colorimo l'andardia perché c'è puzzo di merda Voglio vedere chi è che fa la pupù e la fa profumata Ditemelo voi Quando ti scappa tu la fai, ma tu stassi e ti puzzi Guardate questa pubblicità Ciao ma, che c'è per Prattenthal? Avrei una certa fammental Che vorrebbe qualcosa di fresca, ental E gusto, sental Mmm, perché non mangiamo in terrazza, etal? Non sento Con Simmental, così tenera, magra e gustosa È impossibile non capire Provala con pomodorini, oliva nera, sedano e origano Prova malmental Simmental, il gusto parla chiaro Eccoci, questa batte tutti i record Allora uno torna da scuola E è proprio provato che quando uno torna da scuola Già gli girano poi di una 2000 Uno ha voglia di rinventarsi a studiare Dove ha una fame che muore Vuole solo mangiare e andare E riposarmi un'ora Torna a casa e rifarla mamma Mamma cosa c'hai da mangiare? Una Simmental Oh, che buona! Trovatemelo Uno che nella vita vera fa davvero così Cioè se dopo tutta la rottura di coglioni di 5 ore a scuola Tu torni e tu matta ha preparato solo una Simmental Ma sei un tento te? È come se per cena ti preparassi solo un grissino Voglio mettervi E poi dopo gli dici anche Ti sei impegnato Ma ti sei impegnato a cosa? Che l'ha aperta E l'ha buttata dentro un piatto A mezzo all'insalata Ditemi voi Va bene, via ragazzi Io spero che questo video delle pubblicità assurde vi piaccia E visto che l'ho già messo anche su Facebook Spero che abbia avuto anche il suo successo su Facebook Perché se vi piace io magari farò una seconda parte Quindi mi raccomando Se volete lasciate un like alla pagina mia Facebook Che trovate il link qui sotto nelle informazioni Iscrivetevi al canale YouTube Che siamo aumentati Siamo oltre 640 iscritti E se volete commentare, condividere, pubblicizzare le mie cose Fate pure Che per me è un grande piacere Un saluto Con la tromba e con l'imbuto